che si può trovare ma sicuramente ci sarà spazio per altri di questi flashback probabilmente ogni volta che dormi in un rifugio nuovo o comunque vorrei scorrere della storia cambierà qualcosa no era 140-200 140-200 140-200 era ok questo è questo è Aiden io sono a frequenza 140.200 megahertz hallo? Aiden? sì ho pensato che stavano in contatto con te ho pensato che stavano a cambiare la mente perché stai cercando a Waltz, Pilgrim? per trovare qualcuno altre mia è mia 15 anni fa una volta che stavano in un'ospedale per un'opente G.R.E. ho pensato che ci sono non facendo questo per libero ho dovuto lasciare la città ma non farò non farò di soltare per me a New Parisi e ci siamo o anche o anche o anche ho pensato che ho pensato che è vivere è vivere scusate scusate io prima ho detto ma è femmina Aiden cioè perché dalla voce scuse dalle voce era maschio però nel filmato nel flashback sembrava che avesse una voce femminile ma che cazzo beh insomma va strana sta cosa se me avesse una voce femminile beh forse è stata la mia non so vabbè comunque si andiamo guardate che bello eh oddio questo c'è guardate che bello scogliudo vediamo che razza di scontri ci aspetteranno bro 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 vabbè mi sono attaccato ragazzi ma non ho tenuto premuta oddio ragazzi non tocco un joystick da 3 mesi gribbio scendi non tocco un joystick da 3 mesi al momento non mi ricordavo più qual'è il tasto x qual'è il tasto quadrato Dio morto god is dead not ah un collezionabile bene 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 oggi prendo le camomilline sicuramente queste qui si possono modificare eh fare una versione un po' più cazzuta perchè a parte il fatto che ci impiega un botto a curarsi ma come un botto ci impiega a curarsi perchè ti ho fatto fu la mazza? che c'è vita? c'è qualcosa? quindi già quello da sistemare la cura veloce aspetta che non è la strada giusta è qui la strada giusta lo sapevo che c'era qualcosa io non sono pazzo cazzo altro? sull'ultimo piume pelle vai 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 oh jesus cazzo ciao? è Aiden puoi sentirti ora? oh suolto e chiaro significa che devi essere vicino ho scappato across the lake quindi hai quasi riuscito i tunnel c'è un'entranza l'unica che G.R.E. ha lasciato quando si scelgono la città sono venuti dall'altra parte veloce cosa va? veloce che giuda aspetta che sto massacrando zombie oh sto giocando da 40 minuti porca droga ne ho massacrati un paio solamente fammi ne massacrari 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 un bel po' soprattutto fammi spulciare che ci sia qualcosa non c'è niente pensavo di poter entrare ecco ecco lì c'ho le botte comunque se sono rimasti con lo stile di Dying Light classico si questi crescono insomma medici oddio ma quello è un po' più grosso no 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 non è davvero verba ma c'ha questo fumo diciamo questo fumo io c'ho questo fumo un'aurea fuma Giante Come sblocca la roba che tipo li posso calpestare con un salter. I schiaccio il cradio Di qualcosa me ne da dai un paio di monete un paio di Quindi così Sì Rottami e monetine Noi ci facciamo due spicci per la birra in città C'era un altro lì ma che se ne frega Un altro lasciamo le inviti Mi scazza che praticamente sembra che non sta correndo no? C'è anche così c'è ok sta Camminando però non sta proprio correndo quindi quando devo fare un salto così per Aggrapparmi una sporgenza non sono molto sicuro ecco Di volerlo fare c'è la sensazione che manco la presa perché non sto correndo ecco Mi tumbe da metropolitano mi trovano proprio una bella Ma qua posso esplorare? Cioè io posso andare qua per i cazzi miei? Sì Ci posso andare come? La mazza sta per rompere però Ma vengono presa altre armi di scorta ma oddio Grazie 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 Arricolo militare Ah per nascondersi ok Ehm no C'è mondo di passare C'è il filo spinato C'è il filo spinato Ma qua non c'è il filo spinato No qua mica Ve lo dico io Trappola Fidatevi di mua Aspetta un secondo Oh genio Probabilmente qua ci sono gli infetti più cazzuti Ehm Niente a che vedere con questi lenti lenti che stavamo affrontando fino ad ora Hey C'è qualcuno lì? Raga ma non vedo un cazzo però Ah è da questo Raga vabbè verso... Questo non sembra bene Dove c'è più luce praticamente Devo andare Ma ripeto spero si si blocchi più avanti Perché voglio Oh mio Dio Non mi piace Oh Dio Ah Ah Ehm Ah Ma la cosa Ah 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 Noi... 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 Un volatilico. Molti di questi f*****i nei suoi sceglie. Deveva andare a la luce, rapidamente. Dove mi? No, dopo. Dobbiamo andare. Resistala! Passa! Restai forte! Ci f*****i? Qui sei. Stavamo cercando di te. E... E cosa con questo? Ehm... Ehm... Sei morto per me. Non avevo l'acqua. Andiamo! Ma quello infame mi ha abbandonato. Forse sono diventata la cagarella che mi stavo trasformando. Non ho la chiusa. Spero! Ah, la torcia! Finalmente! Le mie lamentele sono state... Ascoltate! F*****i! In realtà! Non ho la chiusura. L'ho distrutto. Ho fatto questo proprio. Sì! No! Ho giusto, No! No! Vabbè, soffri un po'. AIA! 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 Allora non sento il bordello. Sali Quindi tipo non si è infettato con il morso Cioè Sono Sono già condannato What the fuck Che cazzo ha fatto Un stupido Che devo fare Ah beh giusto Ecco Cigarette Le cigarette Scarpe Scarpe per le feste Non saranno più feste ormai Guardate qui l'ho chiuso Avevo già addocchiato il tunnel qua No 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 Non si troppo Sì Non il Cigarette Cigarette È gone Come ho detto Voi Voi tornare Con il loro Oh dear Vabbè aspetta un altro po' eh Mi sparaggia che cosa è questo? dove hai scopo i nostri chiusi? non so cosa stai parlando lasciami andare tu non puoi uscire? lasciami andare, punk? mi piacerebbe vedere te faccio? porti! spiace non è possibile L'ho parato Vai merda Ah devo seguire un blocco per forza Vecchio di merda Oh shit Vieni 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 L'ho parato Dai dai Vieni merda Dai Mi hanno un mazzettino Uno è andato Oh shit Oh shit Oh shit Oh dio per forza devo farlo ok Capacità di combattimento Calcio con un coltello Salto Oh Questo è bello Questo è bello Sarà divertente Oh e zio come va No time Chi era? No time No time In my pocket I left you something What is this? A GRE access key The peacekeepers They found it We cannot lose it You were gonna tell me what happened to my sister Where's Mia? You will go to Fisheye There ask for a girl named The One Give that to her With it and her help You'll learn You will learn everything Understand Protect it If Waltz gets his hands on it The whole city Everyone will die Waltz? Is Waltz here? He is They're coming You hear that? Renegades Run We'll go together Take this Let's go Oh Fuck Fuck There's our lost lamb And he's not alone We can fix that Slaughter Il decide który This can't dissolve To watch You will hold it Run Step Looking Step 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 Arca droga, ho capito, ho capito, pure è più figo proprio di questo Arca droga Qui rimane così All'infinito rimane così Ma che cazzo Perla Ma scusa una cosa, lui mi ha dato un'arma cazzuta, no? Ancora? Uh, guarda Così ho l'infinito Vai, vai, guarda, vai Ma che corre, ma guarda come è ridotto Scappassi in mano al frontatto Aspetta fammeli controllare Anche le è partita la testa in un modo bellissimo Da, andiamo, zio Come on, 8 Come on, 8 Let's get the fuck out Zahir, are you there? Do you have my key? It's Walt We have to run But I'm looking for him You idiot, he'll kill you if he finds you Dylan Come on, he'll kill you if you want to run Fuck, get to the vent Good, this way, you first Come on, he'll kill you if you want to run What are you doing? Waltz can't get the GRE key, you remember? What? Let me out Fish eye, the one Go Dance the traitor I did it Hey, fellas Let him go Why did you betray me? This key is not yours You can't Where is it? In here Marshorn I'm sorry Getting misty? Not really You're only dying Before zero hour My grandfather raised horses Beautiful rare breeds I love them dearly One day his most beloved horse Fell off the slope And broke his leg I thought Grandpa would help him But he just pulled out his pistol And Put it in my hand He told me You're doing it For him Then he pressed my finger On the trigger I screamed I wanted my grandfather to die But years later I realized What must be done Must be done You leave me no choice My friend I was like Oh no Gettë Gettë Oh my god I don't know He's crazy I don't know Oh my god These men I don't even know The fuck You're like Look at the stage I don't know The fuck That's once That's once I don't know I don't know I don't know nononoonoтак maatonna furbo anche quell'altra che tipo la spazi canali cari qui la chiave cioè che c***** che vuol dire che facesse se forوبiti si sveadora avete visto come schidava fuori l'interiore marco che roba oh vai 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 cosa ce la facciamo mi chiedo che il ripercussino avrà il morsa del notturno è dubito che possiamo guarire così come se niente fosse magari dobbiamo fare una medicina che cazzo ne so oh cosa sta succedendo non ho più vita praticamente possiamo accusare il kit verso l'ignoto non ho più 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 non è più non ho più non ho più Rompicoglioni sta buon'icciola Conosciamoci un po' meglio Ecco qua Non ci siamo più conforti Non abbiamo bisogno di un altro amico Especialmente uno che potrebbe rubare noi mentre dormiamo Non ogni pilgrino è un criminale, sai? Ahah Hai un buon lavoro qui Assemblando lampi UV Sì Non dovrebbe essere qui Hakann è rischando i nostri assi Get the hell out of here Oh I'm sorry I guess I scared you, huh? Felt better after I hit you Or even Yana Aiden What is this place? Our home Our workshop Our whole world, you might say You're nicer than she is Hey Back off Sarah Sarah doesn't trust anyone but me Besides I'm a better fighter than she is So I can afford to be more open Interessante Che è questo? Carta da giro Ah ok Oddio che diavolo c'è fuori You got a thick skull Usually when I whack someone they don't get up no more Vabbè Ottimo Non c'è un corno Qua non posso uscire Vediamo qua fuori Oh Oh Not bad Where's the fisheye? The canteen is there In the center Past the chemical dumps Oh I need to get there I've seen how people in Vilador react to a threat Well can you help me? You seem to be familiar with the city I've lived in this city since before the world got fucked up I could help you but You need a biomarker You won't get far without it Where are you from? Pretty far I guess About 2,000 kilometers Oh shit How the heck did you not get infected? It's easy Didn't let them bite me Here it's different Here we're all infected Heard of Haran They isolated Vilador too They built walls They locked us in It turned out to be the thing that saved us And how do you get a biomarker? Oh you can't get them Unless you know the right people And I do Let's go By the way I'm Hakon I'm Aiden Nice to meet you Aiden Welcome To paradise Nice to meet you Bella fogna Non ce l'ho aperto Guarda Soppresino Gli uccelli Le cornacchie Condor C'è tutto Comunque Allora ragazzi Spezzo qua Il best play Probabilmente Lo dividerò In due parti Ma Spero Che vi sia piaciuta Questa prima E seconda Parte Perché Questa Probabilmente Potrebbe risultare La seconda Parte Supportate La serie E arriveranno Presto Altre parti Allora Che sonno Ci vediamo Al prossimo Let's play Ciao a tutti